Terra Amara, Anticipazione. Intrigo e minacce saranno i protagonisti assoluti di questo video. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Le anticipazioni di oggi della vostra serie turca preferita Terra Amara riguardano le puntate che andranno in onda sabato 6 e domenica 7 maggio. Episodi molto interessanti e ricchi di suspense. Ma prima di iniziare vi invito a lasciare un like al video e ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati e anche per supportarci. Detto ciò possiamo iniziare senza perderci in altre chiacchiere. Mujigan esorta Demir Yaman a tenere d'occhio sua moglie Zuleyla perché non vuole assolutamente che si intrometta tra di lei e Ilmaz e il suo bambino. La zia di Mujigan veice apprende dalla nipote stessa il segreto che accompagna da tempo la famiglia di Zuleyla e come potete ben intuire non perde tempo a farlo notare alla matriarca arrivando perfino a minacciarla. Demir invece lotterà per la sopravvivenza mentre Beice ha serie intenzione di acquisire tutto il potere che ha nelle mani Unkar su Kukurova e infatti nei prossimi episodi vedremo come la zia di Mujigan cercherà di diventare la nuova presidentessa dell'associazione di Kukurova e assisteremo anche alla sua escesa alla carica. Unkar a sua volta farà di tutto per impedirglielo infatti in suo favore fa notare alle signore del club che Beice non è della loro città e quindi non ha le giuste competenze per ricoprire tale ruolo ma la madre di Demir non ne è a conoscenza ancora nell'asso della manica che giocherà Beice a suo sfavore e della sua intera famiglia. Come dicevamo prima Mujigan rivela a sua zia che Ilmaz è il padre di Adnan quindi Beice con molta destrezza attende il momento giusto per far intendere a Dunkar che ha scoperto il loro segreto mettendola in allerta e usando la notizia per farla togliere di mezzo per quanto riguarda le elezioni dell'associazione. Così in un giorno qualunque la matriarca è nel giardino della sua villa con Adnan e la piccola Leila insieme a Zuleila quando arriva da un momento all'altro Beice che si accomoda vicino alla matriarca. A questo punto la donna inizia a parlare e svela a Unkar che ha inteso che non vuole che sia lei a ricoprire quel ruolo in associazione e Unkar in risposta le dice che di donne del posto capaci di poter portare avanti quella mansione ce ne sono molte per cui difficile fargli capire agli investitori con quale competenze una donna di Istanbul possa ricoprire mai questo ruolo importante per Kukurova. Ma proprio in questo momento Beice si gioca la sua carta. La donna guardando il piccolo Adnan fa un'osservazione che lascia Unkar basita. Beice afferma che il piccolo è uguale a Zuleila ma possiede gli occhi di suo padre. La matriarca come dicevamo prima quasi non ha parole. Infatti riesce solo a dire che Adnan assomiglia sia a Zuleila che a Demir. Ovviamente Beice procede con il suo piano e risulta sempre più tagliente ed ironica. Infatti afferma che sia meglio che diventi presidente una donna del posto e con ottime competenze e capacità soprattutto ma anche soprattutto onesta. Qui Unkar le chiede se stia insegnando che nell'associazione ci siano persone non corrette e bugiarve. E a quel punto Beice con il suo sguardo furbole dice che tutti mentono facendole capire di sapere del segreto della sua famiglia sottolineando ancora una volta di vedere gli occhi del piccolo Adnan identici a quelli del padre. Beice lascia la villa a Yaman e Unkar rimane basita e soprattutto sorpresa. Così Unkar va da suo figlio per parlare della situazione e dell'importanza di fare qualcosa di concreto per Leila. Unkar infatti fa notare a Demir di come si è cambiata Zuleila da quando è arrivata la piccola Leila in conseguenza al suo di comportamento. Egli dice che ha anche ragione a pensare che Demir voglia bene di più a Leila che ad Adda. Demir però le sottolinea che vuole bene ad entrambe perché in fondo anche Adda e suo figlio lo ha cresciuto lui e non intende assolutamente separarsene. Unkar però gli fa notare che probabilmente se lui e Zuleila si lasceranno lei non esiterà a togliergli tutto anche i bambini e lo esorta a fare qualcosa per il futuro di sua figlia. Demir però non accetta la sua proposta. Successivamente lo Yaman incontra Ilmaz per caso e Demir apprende che Ilmaz ha comprato le sue proprietà di Istanbul. Così lo Yaman va su tutte le furie mentre se ne va con la sua auto. A causa dell'alta velocità non riesce più a controllare il veicolo sbandando e uscendo proprio fuori di strada e rimanendo in bilico tra la strada e il dirupo sottostante. Quindi tra la vita e la morte. Passano svariate ore e lo Yaman è ancora lì fino a quando non si trova a passare un furgone con degli uomini che vedendo in pericolo l'uomo fanno l'impossibile per tirarlo in salvo e tutto fortunatamente finisce per il meglio. Ma dopo questo incidente Demir cambia atteggiamento ripensando alle parole di sua madre che gli aveva messo la pulce nell'orecchio supponendo che se tra loro sarebbe finita male e ancora una volta che Ilmaz avrebbe scoperto di essere il vero padre di Adnan l'eredità promessa al piccolo sarebbe diventata sua e alla fine le proprietà delle famiglie Yaman sarebbero state nelle mani di Ilmaz. Arrivato in ufficio Demir incontra Mujigan che stava giusto aspettando lui per esaltare lo Yaman a tenere a bada sua moglie perché ha tentato di dare il latte al suo piccolo Keren. Egli dice che non esita a trovare sempre una scusa per poter vedere Ilmaz. Tuttavia Demir cerca di comprendere l'atteggiamento di sua moglie e afferma alla dottoressa che sicuramente Zuleyla lo ha fatto solo per aiutare il piccolino senza altri scopi ma Mujigan gli ribadisce di tenere sotto controllo la moglie. Quando Demir arriva in villa però rimprovera Zuleyla minacciandola dopo aver saputo della rivelazione della dottoressa. Zuleyla è distrutta e in preda all'ansia e anche dopo aver dato le sue giustificazioni più che chiare Demir non cambia posizione. Successivamente discutono di nuovo anche in presenza della matriarca e qui Unkar scopre cosa è successo. Subito dopo Zuleyla si precipita da Beice e in preda all'ira la esorta a fare smettere Mujigan di avercela con lei e mettere in pericolo la serenità della sua famiglia perché al contrario se continua le conseguenze saranno atroci. Successivamente la zia di Mujigan parla appunto con sua nipote cercando di farle aprire gli occhi sul suo comportamento spiegando che così facendo potrebbe avere delle ripercussioni sul suo matrimonio. E la puntata termina così senza rivelarci se Mujigan cambia atteggiamento o meno quindi questo lo vedremo solo in un prossimo video sempre che tu avrai lasciato il tuo like e ti sarai iscritto al canale per poter vedere tutti gli altri video.